Riaperta con la copertura nuova di Zecca la piscina delle Terme di Acireale ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa il presidente della polisportiva Pozzillo Acireale, ingegnere Pietro Nicolosi. Si riparte, abbiamo faticato parecchio, da febbraio quando il ciclone ci ha portato via il pallone abbiamo sofferto molto. Praticamente è stato un inverno a metà l'anno scorso, siamo riusciti a ricomporre questo pallone, da ieri è pronto, da oggi si comincia a nuotare. Siamo contenti, abbiamo molti ragazzi qua vicino a noi, vedete vicino a me tanti baldigiovani che si stanno cimentando, ancora l'acqua non è caldissima ma da domani bolle, per cui siamo veramente contenti e fiduciosi nel continuare meglio di prima. Non solo le discipline sportive ma soprattutto l'attività quotidiana per chi vuole fare nuoto. No certo, logico, le discipline sportive vanno per conto loro, abbiamo tutta la scuola di pallonuoto che cammina con grandi istruttori, abbiamo Salvo Sceppa che sarà il nostro primo allenatore, Pippa Ciriacolo, però abbiamo tutto lo staff per il nuoto. Staff per il nuoto si comincia dai bambini fino a noi più anziani diciamo, perché c'è il nuoto libero, c'è l'acqua gym, c'è il nuoto semplice, il nuoto agonistico, il nuoto sincronizzato, c'è tutto, c'è da scegliere, c'è l'imbarazzo della scelta. Illustrate nell'occasione tutte le attività e le discipline sportive previste nella stagione agonistica 2012-2013, compresa la neonata collaborazione con l'associazione Onlus 104 Orizzontale, presieduta da Rosario Grasso, un sodalizio accese che si occupa dei diversamente abili. Coordinatore di tutte le attività della piscina è il professore Giovanni Grasso. Riprendiamo a essere la piscina di Acireale, abbiamo la voglia di presentare uno staff notevole, per chiunque voglia estrinsecare le proprie capacità, proporremo il nuoto, il nuoto agonistico, proporremo un nuoto meno agonistico, proporremo il triathlon, proporremo i subacqui che faranno dei corsi rilasciati con brevetto regolarmente da tutti. avremo la fortuna che qua si svolgerà il nuoto sincronizzato in cui verrà anche l'allenatrice della nazionale italiana, quindi andiamo a un livello molto alto e poi la palla a nuoto che quest'anno abbiamo è il mister Salvo Sceba che curerà la serie B in particolar modo ma sarà responsabile di tutti gli altri settori nostri.